Lui è freste soltanto per te, ed ha sfidato lei re re re, pur di tenerti per sempre con me. Turnano i nomadi e lo fanno con un nuovo album, anticipato dal singolo Frasi nel Fuoco, tre parole nel titolo Solo esseri umani, per raccontare la storia di una vita e quella di oggi. Ci abbiamo messo tanto impegno e tanta credibilità, infatti tu hai citato valori, io metto anche l'amore, metto la vita. Solo oggi, a 28 anni dalla morte di Augusto D'Aolio, Beppe Carletti è riuscito a dedicare esplicitamente all'amico una canzone inedita intitolata Il segno del fuoriclasse. Pensa che Augusto diceva sempre nei nostri viaggi che erano interminabili, diceva pensa se un giorno e a te non ci fossimo più i nomadi potessero continuare, è da pelle d'oca. Nella tracklist spicca la collaborazione con Enzo Iacchetti, amico storico della band. Lo dico sempre, i nomadi non è che sono i più bravi, sono i più coerenti, che è molto importante essere coerenti. La coerenza paga, tardi ma paga sempre.